ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conoscesse io sono valentina in arte valley makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi prima di iniziare vi ricordo che se volete supportarmi potete lasciare un bel like a questo video iscrivervi ovviamente al mio canale e attivare la campanella per essere sempre informati sull'uscita di nuovi video e non dimenticatevi anche di seguirmi sugli altri miei social nel video di oggi mi vedete con questa base fatta perché ho acquistato dei prodottini di elf da douglas qualche settimana fa e quindi realizzeremo questa base quasi totalmente con prodotti elf direi quindi di iniziare subito ok eccomi qui struccata ho fatto solo skin care ora vedremo questi prodotti che ho acquistato di elf ho preso il soft glam satin foundation che è questo qui poi ho acquistato il power grip doing setting spray e infine il camo liquid blush che sono di blush di cui parla nostra bene quindi ho voluto prendere una colorazione questa è la colorazione dusty rose come avete visto in qualche video precedente possiedo anche altri prodotti di elf quindi li proveremo in questo video come primer utilizzo l'elo glow filter ovviamente e lo applico su tutto il viso è un primer luminoso mi piace perché comunque non unge la pelle la rende luminosa ma non troppo quindi non enfatizza la grana della pelle quindi mi sta piacendo un sacco lo applico con un pennello da fondotinta e lo stendo un po ovunque passiamo ora al fondotinta ed è un medium buildable coverage quindi ha una media coprenza e la colorazione che ho preso io è la numero 13 è questa qui diciamo che avendo preso leggermente colorito è poco poco chiara ma di poco ovviamente poi la faremo scaldare con gli altri prodotti allora l'applico su metà viso con il pennello e dall'altro lato vediamo la resa con la blender diciamo che questi prodotti soprattutto con questa coprenza media modulabile preferisco stenderli con la blender questione diciamo di resa sul mio viso però è un prodotto che si presta bene anche steso col pennello tenete presente che l'ho già usato una volta quindi non è una first impression non vi sto dire però la durata perché l'ho usato in un altro video non l'ho usato per uscire diciamo che con il caldo che sto facendo non mi sto truccando se non per fare i video a meno che non esca di sera ma preferisco rimanere nature vedete che comunque è leggermente chiaro allora questa è la mia parte senza fondotinta e questa è la mia parte con ora prendo la blender e lo applico con la spugnetta ovviamente bagnata e strizzata allora con la spugnetta ovviamente non alla coprenza del pennello come giusto che sia perché la spugnetta comunque tende ad aggrappare più prodotto all'interno però vi devo dire che anche la resa col pennello non mi dispiace perché comunque è un prodotto abbastanza sottile poi ha acido ialuronico all'interno quindi bello ci può idratare ci piaccio io mi accorgo dell'abbronzatura sì vabbè anche il corpo si vede che è leggermente abbronzato ma soprattutto dal viso nonostante metta l'espf ovunque diciamo che mi sono abbronzata sto andando più degli anni scorsi dai quest'anno diciamo che sto riuscendo ad andare per fortuna parte con la beauty blender vedete è molto più naturale non sembra che io abbia un prodotto parte con il fondotinta vedete come comunque è più coprente non ho più neanche le discromie allora per rendere tutto omogeneo ora posso la blender un po ovunque e passiamo al correttore che sapete ho comprato forse due mesetti fa una cosa del genere e la colorazione invece che utilizzo io per il correttore è fair warm showed pale la numerazione non c'è perdonatemi no e questa è la versione idratante saten perché qui dice correttore camo idratante fini quindi in finish satine rimane un po più lucido ed è la stessa diciamo dicitura che abbiamo nel fondotinta saten foundation quindi non è un fondotinta matte quindi tenete presente anche di questo diciamo aspetto stendo tutto con la blender è un buon correttore questo se vi piacciono i correttori idratanti luminosi una buona coprenza ovviamente se steso col pennello copre molto di più passo al contour e utilizzo questo di sephora non ho contour di elf perché non l'ho acquistato però so che anche il contour di elf è molto bello magari più là lo prenderò e lo stendo con il pennello poi probabilmente lo diffondo con la blender però l'ho rivalutato tanto questo contour sincera diciamo che inizialmente non mi piaceva ma modulato e unito a tutti gli altri prodotti mi piace sicuramente un po caldo per essere un contour però ci va bene lo stesso il contour tendenzialmente ha una tonalità fredda allora quando faccio contour o bronzing al naso non lo faccio per renderlo più piccolo ma semplicemente per abbronzarlo per dargli quell'aspetto abbronzato la blender comunque la tinta mi ha schiarita parecchio ora passiamo al blush e allora vi faccio vedere l'applicatore questo tipo lo applichiamo sulle gote molto bella la colorazione molto stesso pennello e tampone il tutto guardate come si stende facilmente ed effettivamente è anche pigmentato come prodotto bello guardate è super super sottile ora prendiamo questo illuminante di NYX non tapponerò neanche con le polveri così vi faccio vedere l'effettiva resa dei prodotti fisserò solo con il fixing spray ho preso giusto la powder perché ovviamente il correttore lo devo settare uso questa di Rimmel non ho comprato powder di ELF però da quello che ho potuto vedere sui social ovviamente da quello che viene mostrato sembrerebbe una buonissima cifria quindi magari in futuro la prenderò in questo periodo mi sto moderando tanto sull'acquisto del make up perlomeno prendo solo le uscite che penso possano piacermi e possano piacervi perché comunque non sono tanto per l'acquisto smoderato di make up base terminata ve la faccio vedere senza applicare il fixing spray ovviamente sono solo creme devo dire che non ho nulla da dire prendo lo spray fissante allora la cosa buona è che non ha una profumazione forte come l'altro che utilizzo di Frudia che è il brand che trovate su YesStyle vaporizza benissimo perché vaporizza benissimo non posso dire niente essendo uno spray fissante che addirittura è un power grip diciamo che comunque vi aiuta anche a far reggere meglio il make up in questo caso ho fatto solo creme ma va bene questo è l'effetto della base devo dire che non ho nulla da dire il fondotinta si è comportato benissimo non trovo nessuna problematica neanche qui sulla fronte guardate quanto è luminosa la base non è unta è luminosa super luminosa bella la sento proprio bella aggrappata sul viso non vi so spiegare la sensazione perché non la sento troppo cremosa quindi non la sento pesante però nel complesso si vede che ha aderito bene il correttore ve ne ho parlato in un video dedicato mi piace il blush è molto carino ovviamente ne ho messo poco come avete visto poi l'ho tamponato con la blender quando ho messo il setting spray quindi comunque un pochino ha perso e ha questo effetto super naturale però nel complesso la base mi piace tanto non vi so dire la durata durante la giornata perché ancora ripeto non l'ho provata perché c'è troppo caldo però così di primo impatto mi piace un sacco e secondo me si può abbinare anche a pelli più mature perché non vedo problematiche anche dove io comunque ho tutte le rughette d'espressione non si è insinuato non mi ha dato problematiche quindi secondo me se cercate dei prodotti low cost abbordabili che potete trovare da Douglas potete prenderlo tranquillamente ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se avete già provato qualche prodottino di Elf e lo sapete sono sempre curiosa di sapere la vostra opinione e se volete supportarmi vi ricordo che potete lasciare un bel like al video iscrivervi al canale attivare la campanella per essere sempre informati sull'uscita di nuovi contenuti anche per oggi è tutto e vi mando un bacio enorme iscriviti al canale